Palmino Masciarelli torna alla Gran Fondo, Masciarelli dopo sette anni, una pausa di qualche stagione, ora si torna a Pescara in una kermesse importante con il patrocinio di enti, di Camera di Commercio, una manifestazione davvero di alto livello. Siamo ripartiti e ci tenevo a farle qui a Pescara perché comunque è diventata veramente una bella città e poi anche il percorso, partiamo da Pescara, andiamo sotto la maiella, quindi la gente parte dal mare, si trova la montagna innevata, riscende giù a Pescara, quindi pensiamo di fare a livello di immagine veramente una bella Gran Fondo. Percorso di 100 chilometri e tra l'altro si preannuncia una partecipazione record di ciclisti, si prevedono 500 corridori che arriveranno da diverse regioni d'Italia. Sì, le iscrizioni sono arrivate dalle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lazio. Sono ancora tutt'ora in corso delle iscrizioni. Importante anche l'appoggio della UISP a Abruzzo Molise? Con la UISP ho sempre collaborato, anche gli altri enti veramente si sono dimostrati, diciamo, hanno collaborato molto, anche se la UISP ha ad organizzare, però anche gli altri enti ci hanno dato una mano richiamando atleti dei loro iscritti con loro, quindi con un capo zucco ormai è l'ottava edizione in effetti che facciamo. Le cose sono andate sempre bene, quindi anche a livello scaramantico rifacciamo con lui.